A questo punto vorrei ringraziare delle persone senza le quali noi non sapremo come e dove fare i concerti. Troppo volte noi musicisti ci dimentichiamo di loro. Sono i nostri tecnici con Fabrizio Baccherini sul palco, Claudio Zeriali alle luci e il metallico Andrea Corsellini, ingegnere del suono e con tutti gli altri. Grazie. La solo di pianoforte che avete appena ascoltato era del barone Alberto Tafuri Lupinacci. E sempre a proposito di metallo, al basso, il grande Fabrizio Palermo. Non è solo un grande batterista, ma è una grande personalità, un grande amico di vecchia data. Luigi Fiore. E naturalmente, quando si parla di chitarra, non si può ignorare questa leggenda. E' il nostro Guitar Hero Luigi Schiavone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.